sì Valentina accetto il gioco sono massimo portaluri farmacista la novità è che recenti studi hanno dimostrato che per il trattamento della depressione molto diffusa non solo nel nostro paese ma anche negli altri paesi industrializzati le vitamine del gruppo b possono svolgere un ruolo molto fondamentale quindi basta a pazienti imbottiti di antidepressivi e di ansiolitici e tranquillanti le vitamine del gruppo b ed in particolar modo la vitamina b1 la vitamina b6 e la vitamina b12 si assunte in modo regolare costante danno un notevole beneficio nella regressione del disturbo depressivo grazie a tutti